Parleremo oggi della fondazione della biblioteca vaticana e nomina del primo perfetto, opera di Merozzo da Forlì che in quegli anni, intorno al 1477, era definito Pictor Papalis. L'autunno di quell'anno del 77 è importante perché la biblioteca vaticana è accessibile agli studiosi, è la prima biblioteca pubblica dalla fine dell'antichità ad essere aperta agli studiosi appunto. Originariamente questo affresco si trovava sulla parete nord della biblioteca latina e fu staccato nel 1825 dal restauratore Domenico Succi e trasferito su tela per volontà di Papa Leone XII ed esposto dal 1833 nella Pinacoteca di Gregorio XVI, restaurato una trentina di anni fa nel 1986. Qui vediamo Papa Sisto IV della Rover in trono, Platina, che appunto il primo perfetto in ginocchio indica un'iscrizione encomiastica che si vede alla base del dipinto. A fianco del Papa abbiamo i cardinali nipoti Pietro Riario a destra, alcuni vedono in lui il protonotario Raffaele e Giuliano della Rovere, che è il futuro Papa Giulio II. Dalla parte opposta ci sono i nipoti laici, Giovanni della Rovere e Girolamo Riario. Vediamo che i personaggi sono separati e apposti, proprio per distinguere la sfera laica da quella ecclesiastica. Per concludere diamo un'occhiata alla cornice, che come si vede è decorata con ghiande e foglie di quercia, con chiaro riferimento allo stemma della famiglia della Rovere. Qui concludo, vi ringrazio, alla prossima!